questi erano quindi pezzi tratti ovviamente dalla mission e adesso adesso direi che piano piano si vede che piano piano ci avviciniamo ai pezzi più significativi e adesso sì adesso diciamo inserirò fino a due pezzi massimo ramili per conoscere tutti la mente che conoscono ovviamente io non a precisare quando sottintendo le cose sottintendendo le cose in questa questo discorso mentre si può un presuno la strana che ovviamente non dico conoscete appunto mi riferisco soprattutto agli italiani ovviamente conoscono tutti questi cantanti anche il pubblico straniero però ovviamente essendo della roba prevalentemente italiana cioè sottintendendo questa tra ogni caso dicevo due pezzi di massimo ramili che comunque un po' anche difficile inserire adesso però in qualche modo se devo rispettare la preferenza comunque non tanto se la sua preferenza assoluta ma quello che avverto io da sempre dovrebbe essere così e quindi inserisco adesso questi pezzi massimo ramili problemi per la bellezza andavano dopo ma sempre succeduti però e sono adesso e quindi avrà un po con la possono possono del piano manzo lì quindi grazie a tutti i nostri spettatori Sì, direi che ci siamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.